Ti amo, cara. Mi ricordo malamente di questa storia perché ho ricevuto una telefonata da Cesare che mi chiedeva la possibilità di dare per loro, per la fiera di Colonia, un'occasione nuova di fare un nuovo prodotto. E così è nata questa poltrona che ha preso il nome di Soriana, nel senso che il prototipo che avevo l'ho regalato al grande amico di mio padre che quando l'ha vista e l'ha provata è morbida come una Soriana. La Soriana è un gatto, si amese. Ho visto la foto della nuova, è gentile. Mi ha fatto vedere una cosa che non l'avevo mai apprezzata quando l'ho fatta. Erano materiali semplici all'origine, lana. Il concetto era poco lavoro, tanto materiale. La Soriana era proprio una sfida. Usiamo ancora la parola Soriana in quanto la conosciamo ma all'epoca era una cosa ignota e si apprezzava la comodità dalle forme, dal sapere che sulla memoria quando ti siedi senti che sei accolto. Dopo quando l'ho vista in realtà è il materiale nuovo che è stato usato. Questo materiale che non è usuale nella storia che ho io, dell'imbottitura, no? Ha dato più luce alla cosa, ha dato una luce diversa, più morbida, più della natura del prodotto. Dentro c'è un mondo che è stato completamente variato, aggiornato, aggiornato sulle tecnologie di oggi. Molte di queste inusuali, quindi sono delle novità anche per chi si siede e trova una comodità altra, una comodità più sicura, una bella proposta di comodità e un sostegno sufficiente per tutta la superficie della poltrona. Quindi dal punto di vista, che cosa penso io? Che è stato fatto un lavoro più raffinato.